Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignone. In A1, in direzione Roma, traffico ralentato tra Firenze Scandici e Firenze Sud. Un chilometro di coda per lavori tra Chiusi e Valdichiana. In Fipilì, in direzione Livorno, un chilometro di coda per incidente tra Empoli Ovest e San Miniato. Entrata Empoli Ovest chiusa per incidente. Il provvedimento riguarda le auto che viaggiano in entrambe le direzioni. E possibili disagi per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginesta Fiorentina in entrambe le direzioni. Nel raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra Tavarnelle e San Donato e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta. Per la circolazione ferroviaria segnalato un guasto nella linea faentina. Il treno 11 983 da Firenze per Borgo San Lorenzo viaggia con un ritardo di circa 25 minuti. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!